Buongiorno signore e signori, diamo il benvenuto al Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti voi, con le veronesi e i veronesi, perché avevamo fissato qualche giorno fa, qualche settimana fa, questo appuntamento e poi è dovuto saltare all'ultimo tuffo per colpa mia che ho cambiato programma, ma per una buona cosa, per una buona sorpresa, anche se anche quella è stata molto contestata. Ma credo che fosse doveroso per tutti noi abbracciare due ragazze italiane che stavano facendo una bellissima cosa a New York nella finale di tennis degli USA Open. E quindi quell'appuntamento è saltato, ho cercato di recuperarlo subito e sono davvero felice di essere con voi. Saluto tutte le istituzioni, a partire dal sindaco, dal prefetto, da tutte le istituzioni parlamentari, da tutte le autorità, dalle autorità della città, vedo qualche autorità non istituzionale ma economica, culturale, persone che hanno fatto la storia e continuano a fare la storia della vostra città, che è una città, fatevelo dire da chi di città belle, qualche esperienza ce l'ha, che è una città meravigliosa e oggettivamente la bellezza come valore identitario del nostro paese è un qualcosa che si tocca con mano camminando e in qualche modo facendosi stupire. Noi siamo un po' abituati, talmente abituati alla bellezza, che non ci facciamo quasi più caso. Ma in realtà quando veniamo fuori, quando torniamo in qualche misura per qualche giorno, per qualche settimana siamo stati fuori dal paese, ci rendiamo conto di avere una grandissima responsabilità, che è la bellezza dell'Italia. Io vorrei mostrarvi un video, semplicemente un video iniziale, per raccontarvi perché ho scelto di fare questo giro in tutti i teatri italiani, a raccontare cosa sta facendo il governo e a cercare di prendere degli impegni per il futuro. Ma partendo da cosa? Da che cos'è l'Italia? Guardate un attimo cos'è questo paese e come noi ce lo dimentichiamo troppo spesso. Il video, Franco. È rimasta sull'immagine. Vai con il video, il solito video. Il video, il video, è rimasta sull'immagine. Il video, è rimasta sull'immagine. Grazie a tutti. 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 Oggi questo sistema, che può sembrare una banalità, è finalmente per sempre cambiato. sapete quanti sono stati i governi in 70 anni di storia italiana? 63. Io sono il Presidente del Consiglio numero 27, governi numero 63. In 70 anni vuol dire che noi cambiamo un governo all'anno. Con questo meccanismo la stabilità ci porterà a essere esattamente come gli altri paesi. Vince Tizio, Occaio o Sempronio, poi io spero che vinca Tizio diciamo, però chiunque vinca potrà governare per cinque anni e chi perde non sarà quello che spara contro il suo paese, farà l'opposizione e si preparerà per i cinque anni successivi a prendergli il posto. Ma non parlando male dell'Italia e cercando di bloccare l'Italia, cercando di raccontare una sfida più bella, più affascinante, più appassionante. Legge elettorale. Un anno fa vi avrebbero detto non la farete mai, ci dicevano è impossibile, è fatta, è legge, è andata. Il Jobs Act, so che ci sono molte discussioni, per esempio dentro il mio partito politico c'è ancora chi dice che il Jobs Act non è stata una buona cosa. Però i numeri, guardiamo i numeri, abbiamo semplificato le regole del mercato del lavoro, abbiamo portato nel giro di un anno, a tornare su il livello dell'occupazione. Nel giro di un anno il fatto che ci siano centinaia di migliaia di posti di lavoro in più è un fatto straordinariamente positivo. Poi quello dice, però in parte derivano dagli sgravi contributivi. Quell'altro che dice, sì, ma il Jobs Act non ha fatto posti di lavoro nuovi, ha permesso soltanto a quelli che hanno, che avevano un contratto a tempo determinato, di avere un contratto a tutele crescenti, quindi di avere un contratto stabile. Ora io dico, non è così, ci sono anche dei posti di lavoro in più, ma anche se fosse solo così, ma anche se fosse solo così, per un ragazzo che aveva un contratto di lavoro a tempo determinato e che adesso ha delle garanzie, non è che sta cambiando una piccola cosa, un particolare, un dettaglio, sta cambiando il mondo. Sarà anche un caso, ma c'è l'ottantadue per cento di mutui in più, una parte sono surrogue, quindi non sono tutti mutui nuovi, ma l'ottantadue per cento di mutui in più non vuol dire soltanto che forse il prossimo anno finalmente si rimetterà in moto il mercato immobiliare, ma vuol dire soprattutto che un ragazzo, una ragazza di trent'anni, che avevano un sacco di contratti a tempo determinato, oggi hanno la possibilità di prendersi per mano e di fare un progetto di vita e poter mettere su casa e poter vincere quella pessima statistica che vede l'Italia, il Paese con il minor tasso demografico, con il più basso tasso demografico al mondo, è un grande valore per il Paese. E ancora, ci dicevano che la riforma costituzionale non sarebbe mai passata. Cosa vuol dire la riforma costituzionale? Non facciamo troppi giri di parola, un Paese più semplice. Noi oggi abbiamo la Camera e il Senato, la Camera approva, va al Senato, il Senato dice che si fa? E un po' cambiamola, non è che si può anche solo, allora si prende il Senato e la Camera e torna alla Camera. Camera, Senato, Camera e abbiamo mille parlamentari molto bravi per carità di Dio, però il doppio che gli Stati Uniti. Allora, semplificare, ridurre, dire guardate c'è soltanto la Camera che dà la fiducia e che vota le leggi, il Senato fa altre cose e si riduce il numero delle persone che fanno politica a tempo pieno, come è accaduto con la provincia. Io non è che voglio ridurre il livello della democrazia, voglio ridurre il numero di quelli che fanno politica e io sono il primo a sapere che siccome per me la politica si fa per un po' di tempo e poi si va a casa, come succede negli altri Paesi, uno potrà fare, nel mio caso come Presidente del Consiglio, al massimo due mandati e poi, se riesco a vincere la prossima, e poi a casa come tutti gli altri. Questo atteggiamento non significa avere un atteggiamento polemico contro la... Significa semplicemente avere un atteggiamento semplice. L'Italia è un Paese più semplice sul lavoro, sulla pubblica amministrazione, su cui abbiamo approvato la legge, ma adesso viene il bello, perché bisogna approvare i decreti attuativi, i decreti legislativi più correttamente, e quindi dobbiamo permettere a un cittadino che arriva dentro una pubblica amministrazione o che magari più semplicemente lo fa con il telefonino, perché ormai al giorno d'oggi il rapporto con la pubblica amministrazione può essere semplicemente attraverso un telefonino, non è necessario dover fare le code, le file, di avere tutti i dati a propria disposizione amministrazione senza rivolgersi allo Stato timbro, ma semplificando con lo Stato click, con lo Stato che riesce a essere più gentile nei confronti dei propri cittadini. Se fossi venuto qua un anno fa mi avreste detto, eh ma la responsabilità civile dei magistrati? Eh ma le pene per la corruzione? E sono leggi che sono state fatte. Se un magistrato sbaglia paga, se un cittadino o un politico, non soltanto un politico, corrompe, paga ancora ovviamente molto di più e più di quello che pagava prima, perché non è pensabile che si possano fare regoline come quella sulla prescrizione o sul patteggiamento per cui uno restituisce un po' di soldi e la sfanga, no? Se tu vuoi patteggiare, paghi tutto fino all'ultimo giorno e fino all'ultimo centesimo, patteggi, ma paghi tutto. Queste regole sono regole banali e le abbiamo fatte. Cioè non siamo più al carissimo amico, sono realtà che in un anno la politica ha dimostrato di saper realizzare. A me sembra bello, perché sembra finalmente di poter toccare con mano l'idea che quel paese così bello che abbiamo visto all'inizio funziona se ciascuno fa la sua parte, in primis i politici, che devono però avere il coraggio di crederci, prima loro. Perché se fossi venuto un anno fa la parola d'ordine sarebbe stata chi te lo fa fare di mettere le mani sull'Expo, tanto non funzionerà. Non andrai mica all'Expo, lascia fare, hanno combinato un disastro, vedrai che non ci andrà nessuno all'Expo. Noi ci abbiamo messo la faccia e anche qualcos'altro e oggi l'Expo è una realtà. Vi voglio far vedere cosa diceva uno statista esattamente sei mesi, no, nove mesi fa sull'Expo. Beppe Grillo. Tutti lì, tutti molto discreti, molto educati, tutti col cappellino, sono il capo ingegnere, buongiorno, guardi, non c'è un cazzo cosa guarda, c'è niente, c'è un campo, quattro pezzi di cemento, guardi, qui ci verranno due milioni di persone, ma chi è che viene a Ro? Ditemi, ho chiesto a Milano, sei mai andato a Roma? Mai mi toglierei i coglioni per andare a Roma. Primo. Secondo, ma il progetto, il progetto, bene, nutrire il mondo, nutrire il pianeta, il cibo, siamo una meraviglia, ma si doveva pensare in un altro modo, come dice Battista. Chi è che ci va a Ro? Chi ci va a Ro all'Expo? Mi fai vedere, Franco, chi è che ci va a Ro all'Expo? Perché nel giro di sei mesi noi abbiamo avuto qualcosa come quasi 20 milioni di ingressi, esattamente quelli che immaginavamo di avere. E non solo, ma la gente fa la coda al punto che io ho visto che fanno la coda quattro ore e mezzo per entrare al padiglione del Giappone, che uno manca poco fa prima andare a Tokyo, che non a vedere il padiglione, con tutto il rispetto per il padiglione del Giappone, ora non vorrei creare una crisi diplomatica. Però il punto chiave che voglio dirvi è che, indipendentemente dalle valutazioni di merito, è che se il Paese ci crede, le cose accadono. Ecco perché io ho scelto di fare un giro nei teatri, per dire, guardate, noi la nostra parte la stiamo facendo. Forse male, forse bene. Aspettiamo suggerimenti, consigli. Abbiamo fatto una riforma della scuola, ne parlavo stamattina con il sindaco, con il provveditore, con il dirigente provinciale e direttore regionale, del direttore provinciale di Verona. Abbiamo fatto una discussione su come sta funzionando, qualcuno dice che potevamo far meglio, per carità di Dio, però per la prima volta nella scuola si mettono soldi anziché italiani. Abbiamo fatto una discussione sugli 80 euro, e qualcuno dice che gli 80 euro non bastano, però per la prima volta dopo mesi i consumi tornano a crescere, ed è un fatto importante che si torni a investire nell'Italia. Quindi le cose che facciamo noi possono essere apprezzate o non apprezzate, però le stiamo facendo. Ora io sono qui per dirvi quali sono le prossime che facciamo, ma soprattutto per chiedere una mano a voi, perché la mia tesi è che l'Italia si salva solo se la salvano gli italiani. E che non è vero che abbiamo bisogno degli aiuti dall'esterno, che dipende dalle condizioni europee, dal mondo. Il destino è nelle nostre mani. Dipende da quello che ciascuno di noi ha voglia di fare. E l'expone a una piccola, piccolissima dimostrazione. E la riforma del lavoro va in questa direzione, e tutte le cose che abbiamo fatto fino a questo momento vanno esattamente in questa direzione. Cerco di essere rapidissimo. Vedo qualche faccia stupita, dice, ma come fa questo a raccontarci che il destino è nelle nostre mani? Noi abbiamo visto quello che sta accadendo nel mondo, abbiamo visto la situazione di tensione che c'è in Libia, in Siria, ma ciò che sta accadendo ormai a 360 gradi sotto i nostri occhi, perché con la comunicazione globale nessuno oggi può dire di star fuori, nessuno può dire di non sapere cosa sta accadendo. Io ve la dico così. Oggi noi abbiamo tanti problemi a livello internazionale. È come se dall'Afghanistan fino alla Nigeria ci fosse un blocco uniforme, non è uniforme, è molto differenziato, a nomi diversi, ma di un estremismo e di un fanatismo che vuole minare alla radice la stessa idea, la stessa identità, la stesso concetto di cultura che noi abbiamo. In Afghanistan prende il nome dei talebani, è stata la patria di Al Qaeda, spostandosi verso l'Occidente. Vediamo cosa è accaduto con il califato, lo stato islamico, la situazione in Siria, la tensione costante che c'è in quell'area del mondo, porta a intervenire, avere delle grandi situazioni di tensione anche in Africa ormai, Boko Haram in Nigeria, nell'Africa occidentale o in Somalia, per arrivare fino in fondo al continente africano. c'è un estremismo diffuso che ha nomi diversi che in alcuni casi uccide e quando non uccide vuole farci vivere nel terrore. È emblematico che in questi anni abbiano colpito, anche in quest'ultimo anno, una scuola a Peshawar. Prendere una scuola significa prendere il futuro. Una università, io sono stato in Kenya e ho voluto parlare in una università, perché quando a Garissa hanno ucciso degli studenti hanno dato un segnale contro la cultura e l'idea stessa di identità. Ma se ci pensate a Tunisi, il museo, il bardo... E quanto è stato bello ieri vedere che il Nobel per la pace è andato alla democrazia tunisina. Io sono molto orgoglioso che il mio primo viaggio all'estero è stato a Tunisi, non a Berlino, non a Parigi, non a Londra. E se ci pensate anche in Europa, perché poi alla fine questo problema arriva anche in Europa. L'uomo che taglia le teste nei video che vediamo dell'Isis è cresciuto a Londra, non è cresciuto in Siria. La redazione di Charlie Hebdo, che tanto ci ha fatto commuovere a gennaio, è stata presa d'assalto da cittadini francesi che erano cresciuti in Francia, educati con il sistema francese, che avevano giocato a calcio o erano andati a scuola in realtà francesi. E la stessa cosa vale per il Belgio e per la Danimarca, dove sono stati attaccati delle sinagoghe. Perché vi faccio questo lungo racconto? Per dire che io non vivo nell'Eden e penso che vada tutto bene, diamo un po' di messaggio di speranza e partiamo. No, il mondo fuori è complesso. Ma proprio perché è complesso non c'è bisogno, e questa è la posizione dell'Italia, di chi si alza una mattina e dà una reazione distinto. Allora vado qui, bombardo qui, bombardo là. C'è bisogno di una strategia, non di una reazione. E questa strategia durerà anni e parte dall'idea di cosa siamo noi, quali sono i nostri valori, i nostri valori culturali, fatemelo dire a Verona, città che educa alla bellezza, i nostri valori identitari, i nostri valori di solidarietà e di accoglienza. Ecco perché quando per mesi si è detto che la questione immigrazione si risolveva con uno schiocco delle dita, e io dicevo guardate che non è una questione che si risolve con uno schiocco delle dita, ci vorranno mesi, ci vorranno anni, perché quando tu fuggi da una guerra, quando tu fuggi da una guerra, non è che se vedi un talk show in Italia dove qualcuno la spara più forte, allora torni indietro. Intanto perché non lo vedi il talk show italiano? E poi perché è normale che se stai scappando lì non c'è la possibilità di vivere in un certo modo in un altro, lì c'è la vita o la morte, è chiaro che fuggono. Di fronte a questo però la posizione italiana è sempre stata una, è un problema, non possiamo accoglierli tutti, dobbiamo mettere delle regole, dobbiamo far sì che queste regole siano europee. Dopo sei mesi anche la Francia e la Germania, mercoledì scorso al Parlamento europeo hanno detto che il trattato di Dublino è superato, ci hanno messo sei mesi benvenuti nel club, ma quando diciamo queste cose noi stiamo dicendo che c'è bisogno di una strategia globale, complessiva, non di una reazione distinta e questo richiede che i cittadini siano parte integrante di questa risposta. Ecco perché io sono orgoglioso di essere il capo protempore di un governo che comunque tutti i giorni esce in mare e cerca di salvare delle vite, perché prima di chiedergli se sei migrante o rifugiato prima salvo la vita e non mi basta che ci si commuova quando si vede un bambino come quel bambino Aylan sulla spiaggia di Bodrum. Vi garantisco che avendo visto le stesse immagini in un tir, bambini morti in un tir in Austria o nella stiva di una nave nel Mediterraneo o drammi che vanno dal tunnel di Calais fino alle spiagge della Grecia, quando vedi questa situazione così complessa non basta avere la reazione emotiva o cercare viceversa di strumentalizzare demagogicamente. Occorre avere un progetto di lungo periodo, occorre avere l'Italia. Ecco perché io dico smettiamo di parlare male dell'Italia, perché l'Italia nel mondo è vista come quel paese che tra mille difficoltà per primo ha capito qual era la linea su questa questione qui e cioè che bisogna avere delle regole europee condivise, che non si può pensare di accogliere in modo indiscriminato ma che non si può nemmeno pensare di chiudere gli occhi e che non cambia posizione sulla base dell'interesse del momento. Perché ci sono stati dei capi di governo, non vi dirò i nomi, che durante il Consiglio europeo di giugno mi dicevano ma che fai a fare qui, ma che discorsi dici, ma cosa stai dicendo quando chiedi che sia un plame europeo e che due mesi dopo facevano le dichiarazioni dicendo ma io potrei anche accogliere a casa mia un immigrato. Hanno cambiato posizione sulla base di quello che i giornali dicevano. Se noi siamo un paese serio, abbiamo le nostre idee, non cambiamo posizione sulla base di... poi si può naturalmente sbagliare, cambiare, modificare, ma non cambiamo posizione sulla base di quello che ci viene detto all'ultimo tuffo. Ecco perché io vi chiedo, se noi siamo consapevoli della straordinaria forza di questo Paese e se noi finalmente rimettiamo in piedi le condizioni economiche perché questo sta accadendo, finalmente l'economia riparte, allora possiamo avere una strategia che guarda all'Africa, certo, che guarda al Medio Oriente, che guarda gli Stati Uniti. Cosa sta accadendo? Guardiamo dei numeri economici. Noi negli ultimi anni abbiamo avuto tre anni di recessione e finalmente la musica sta cambiando. Se guardate i dati, fai vedere Franco la scheda con i dati del PIL, noi siamo passati dal meno 2,3% del 2012 al meno 1,9% del 2013, adesso finalmente il PIL dovrebbe essere intorno all'1%, qualcosa a meno. Dovrebbe essere tra la previsione nostra e lo 0,9 vedremo quello che riusciremo a realizzare. Dunque, finalmente il PIL torna al segno più. Però del PIL come numerino non sappiamo che farcene se non leghiamo al PIL che cosa? Il racconto possibile della quotidianità. Il PIL non è una percentuale, il PIL è l'azienda che ci crede quando non ci crede nessuno, è l'imprenditore che si mette a girare per il mondo quando tutti intorno gli dicono ma sei matto a farlo. È colui il quale dice io non faccio questa attività semplicemente perché ho interesse economico, certo non è mica la fate bene i fratelli, lo fa anche per interesse economico, ma lo fa perché innovando, costruendo, creando occasioni non soltanto dà una mano al proprio territorio e rimette in piedi l'economia, ma dà anche un senso al proprio impegno. L'Italia è piena di gente così che ci crede e il Veneto è una terra che dà lezioni su questo e Verona è una terra piena di imprenditrici e imprenditori che grazie al rapporto con le donne e gli uomini che lavorano nelle proprie aziende ha fatto delle cose straordinarie e sta attirando la ripresa. E posso dirlo? Io un anno fa dicevo l'Italia sarà meglio della Germania e siccome non è che lo dicevo qui, lo dicevo all'ONU e agli incontri con i giornalisti internazionali durante l'Assemblea Generale dell'ONU, avevo il terrore che mi prendessero per pazzo e infatti qualcuno, non lo dite in giro, ma mi ha preso per pazzo perché la domanda che mi facevano era ma dai voi farete la fine della Grecia. Ancora sei mesi fa le trasmissioni dicevano rischio contagio per l'Italia. Oggi il Fondo Monetario Internazionale la settimana scorsa, un grande finanziere come George Soros e tanti analisti dicono che l'Italia può essere meglio della Germania. E sapete perché lo dicono? Perché non conoscono bene Verona e il Veneto. Perché se vengono a Verona e nel Veneto vedono già realtà che sono meglio della Germania, che sono più produttive, che sono più capaci di innovare e di investire. E allora che cos'è che va fatto adesso? Bisogna che finalmente la politica liberi tutte le risorse, tutte le energie. Ecco perché il prossimo anno sarà un anno in cui nella legge di stabilità interverremo. Interverremo sulla cancellazione dell'Imu e della Tasi per tutti, per la prima casa, per dare un segnale evidente che è l'ora di finirla, di considerare il frutto di sacrifici lungo una vita un qualcosa da tassare ulteriormente. E mettiamo la parola a fine a una discussione di cui non se ne può più perché è dieci anni che non si parla d'altro. E almeno speriamo che su questo riparta un po' l'economia di un settore, quello delle costruzioni, che ha perso 525 mila posti di lavoro. Poi ve l'hanno chiamata Tasi a voi. Zitto, Tasi e Paga è una cosa che sembrava una provocazione. Ve l'hanno fatta apposta. Io credo che il modo con il quale chiamiamo le tasse, secondo me, talvolta cambiamo il nome e lasciamo la tassa. Io me li immagino alcuni dei politici del passato che dicono, tanto non se ne accorgono. Il cittadino non è suddito, il cittadino conosce le cose. Non è che se tu cambi, metti ICI, non si chiama più ICI e si mette IMU e dici, ah vabbè, però mi hanno tolto l'ICI. Eh no, ti hanno messo l'IMU e poi ti hanno messo la Tasi. Ecco, adesso il tema è che non si paga. Su questo. Poi bisogna lottare sempre di più contro l'evasione perché pagare meno impone che si paghi tutti. E che lo Stato dia in modo chiaro attenzione su questo. Io sono molto felice di un piccolo risultato. I dati dello split payment per l'IVA, di alcune misure, non mi sto addormentare con le misure tecniche, portano a dire che quest'anno c'è un aumento di gettito fiscale superiore alla crescita economica del Paese. Cosa significa? Significa che incrociando i dati finalmente siamo in grado di avere più soldi come gettito, cioè c'è una riduzione dell'evasione. È un fatto importante questo perché la riduzione dell'evasione non la fai giocando a guardi e ladri. Noi abbiamo dei bravissimi finanzieri, oltre che dei bravissimi carabinieri, poliziotti e tutte le forze dell'ordine hanno il nostro appoggio e la nostra stima. Però non è che possiamo metterli fuori dai negozi a giocare a cucussette con quelli che escono. Siamo nel mondo in cui oggi con un telefonino sanno tutto di te, tutto, tutto. Siamo nell'epoca dei big data, cioè che attraverso l'informatica, più correttamente attraverso la tecnologia, ne abbiamo parlato anche proprio qualche anno fa all'Assemblea di Confindustria Verona, con la tecnologia puoi incrociare i dati e scoprire tutto ciò che puoi scoprire. Ora, io dico, è mai possibile che si debba giocare a nascondino fuori dai negozi. Incrociamo i dati, non so quanti tra di voi, ma quest'anno per la prima volta 20 milioni e 400 mila italiani hanno avuto la possibilità di fare la dichiarazione precompilata, lavoratori dipendenti. Questi lavoratori hanno ovviamente in larga parte scelto di farlo attraverso un commercialista o il CAF, cioè hanno scelto comunque di avere un consulente per star tranquilli, anche perché non c'erano le misure sanitarie dentro, la deducibilità delle spese sanitarie, ma un milione e 400 mila italiani hanno fatto da solo. Hanno ricevuto la password, hanno fatto la dichiarazione di redditi, chiusa lì, con un click. Un milione e 4, l'applauso facciamo da loro, più che... Il prossimo anno ci saranno tutte le spese sanitarie dentro e sempre di più si va verso questo modello, per cui alla fine nel modello della pubblica amministrazione italiana, che ha gli ingegneri migliori del mondo, basterà un click, un sms, per poter pagare le tasse. C'era Woody Allen che diceva che bisognerebbe pagare le tasse con un sorriso e l'altro rispondeva che ho provato, ma loro volevano i soldi. I soldi sono sempre da dare, ma li dai in modo semplice e in prospettiva andrai a ridurre il peso delle incommense. E allora, Tasi e Imu, agricoltura, via. L'Imu agricola, via l'Irap agricola. Noi abbiamo bisogno di dire che tornare alla terra non è una parolaccia. Vent'anni fa io andavo a scuola, se uno di noi faceva il cuoco lo prendevano per matto. In vent'anni tra Masterchef, trasmissioni televisive, la prova del cuoco e tutto il resto, oggi mio figlio tutti i giovedì sera si riunisce con gli amici per guardare Masterchef. Va al liceo. Quando andavo al liceo io, se parlavo così di una ricetta, mi diceva ti senti bene? Adesso il cuoco, o meglio lo chef, anche questo però va risolto perché le parole francesi sono più forti di quelle italiane su questo settore. In realtà, ieri l'altro Martina era entusiasta, i francesi hanno riconosciuto che li abbiamo superati sul vino, ora dobbiamo superarli anche sul prezzo del vino, ma ci arriveremo con calma, non soltanto con l'amarone. Però il punto centrale è che in vent'anni l'aspetto alimentare è diventato, non dell'agroalimentare, l'aspetto della cucina è diventato centrale. Io credo che qui tra di voi ci sia chi conosce bene le potenzialità dell'agroalimentare e di come una strategia di comunicazione, sto casualmente indicando Giovanni Rana ma non ve ne siete accorti, di come le strategie di comunicazione hanno portato a valorizzare un prodotto straordinariamente buono. La comunicazione non è una parolaccia, la comunicazione è a servizio della bontà. Però il punto chiave qual è? Ancora oggi nell'agroalimentare l'Italian Sounding, i prodotti che hanno il nome italiano, hanno un mercato potenziale di 90 miliardi di euro. Cioè ti comprano l'olio, il parmesan, ti comprano l'olio con bianco, verde e rosso ma poi si scopre che è made in Cile o da altre parti. Perché? Perché noi abbiamo una grande fame d'Italia nel mondo e però noi non siamo stati sufficientemente bravi come Paese a valorizzare tutto ciò che c'è di buono. Alla fine siamo passati di questi 90 miliardi potenziali, soltanto 36 miliardi sono prodotti veramente italiani. Cioè ci sono 64 miliardi di... chiedo scusa, ho fatto un errore. 54 miliardi, erano 60, adesso è un po' aumentata la percentuale, 50-55 miliardi di euro che sono soldi che vanno a prodotti che hanno il nome che suona italiano ma non è italiano. Anche questo è una delle priorità. E allora tornare all'agroalimentare e tornare a gestire, a vivere e a investire sulla terra deve essere un frutto di un'azione di comunicazione. Bisogna che tra vent'anni chi lavora alla terra faccia lo stesso percorso che ha fatto il cuoco chef da quando andavo al liceo io a quando va al liceo mio figlio. Bisogna che chi lavora alla terra deve tornare a essere un lavoro... chi debba tornare ad avere il plauso, il gradimento sociale. Può sembrare una cosa banale ma è fondamentale e questo ci aiuterà anche a gestire meglio il territorio. Certo, io però non è che devo fare strategie di comunicazione. Io devo abbassargli le tasse. Via Limo agricola, via l'Irapp agricola. Però torniamo a investire sulla terra. E ancora per le aziende, ne parleremo tra qualche istante a Treviso, gli ammortamenti. Chi nel 2016 decide di investire deve essere messo nelle condizioni di avere uno sconto fiscale. Deve essere messo nelle condizioni di dire se, anziché metterti i soldi in tasca e andartene a farti le vacanze, metti i soldi nell'azienda, nei beni strumentali dell'azienda, nei beni operativi dell'azienda, io Stato ti dico grazie come riducendoti un po' di carico fiscale. Perché è un punto fondamentale per i prossimi anni. Potrei continuare a lungo ma vi addormenterei. Noi abbiamo tante cose in ballo. Le facciamo tutte. Perché pensiamo che l'Italia abbia bisogno di muoversi, di mettersi in movimento. Io su questo devo essere chiaro. Lo dico con il massimo rispetto e con affetto. Io faccio il Presidente del Consiglio. Per cui la prima cosa che faccio quando arrivo in una città è salutare il Sindaco. Di qualunque colore politico sia. Nel caso di Flavio Tosi mi lega un rapporto di consuetudine fin da quando eravamo sindaci insieme. Credo che questo sia fondamentale perché bisogna avere rispetto sempre gli uni degli altri, indipendentemente da quale sia il colore politico. Perché tutti siamo a fare il bene dell'Italia. Ma proprio perché credo questo, voglio indicarvi qual è secondo me il rischio. E lo dico indicando una persona che non ha le mie idee politiche, io non ho le sue, è che in questi giorni ha proposto esattamente l'opposto di quello che secondo me serve. Il riferimento è proprio al leader della Lega che qualche settimana fa da un posto significativo per quel partito, da Ponte di Legno, ha fatto una proposta per il Paese. E io vorrei nel merito dirvi perché il Governo la pensa esattamente nel modo opposto. Guardiamo la proposta di Salvini. I politici, la Lega lancia questa proposta tre giorni. Nella prima settimana di novembre blocchiamo tutto, fermiamo tutto, non compriamo più un accidente, non consumiamo più un accidente, non paghiamo più una lira, ma ci fate votare e torniamo un Paese normale. alzi la mano chi si prenota per questi tre giorni di novembre. Se voi ci siete, io ci sono. Segnatevi sull'agenda e poi vi spiegheremo cosa fare per darci una mano. 6, 7, 8 novembre. Io mi sono segnato il 6, 7 e 8 novembre e sono assolutamente certo che quello che serve all'Italia è che il 6, 7 e 8 novembre e in tutti i giorni che verranno prima e dopo l'Italia faccia esattamente il contrario. Uno può dire mi sta antipatico Renzi e spero che vada a casa, ma mi sta a cuore l'Italia e deve ripartire. È esattamente l'opposto. È esattamente l'opposto di questa cosa qui. L'Italia ha bisogno di ripartire. Vi do un dato e poi terminiamo con due considerazioni più legate alla cultura, alla lotta alla povertà, alla scuola e al sociale, perché comunque abbiamo parlato molto di economia, ma io vi confesso, io vengo dai Boy Scout, vengo da questa esperienza qui e quindi mi sta a cuore parlare del senso profondo di ciò che siamo e di come vogliamo essere. Però un ultimo numero economico, poi prometto non vi dico più niente di economico, che dimostra perché questa strategia è la cosa che fa più male all'Italia. 2012, debito pubblico italiano, voi sapete che noi abbiamo un enorme debito pubblico, 2 mila miliardi di euro, 2 trilioni, sembrano i fumetti di zio Paperino, 2 trilioni. In realtà questi 2 trilioni, 2 mila miliardi di euro sono un debito molto grande, specie rispetto al PIL, siamo tra i primi paesi al mondo come alto numero di debito, ma siamo l'unico paese tra i paesi occidentali, insieme alla Germania in questo caso, ad avere una ricchezza privata enorme. 2012, 2 mila miliardi di debito pubblico e 3.500 miliardi di risparmi privati. In America c'è un debito pubblico più basso, ma non c'è risparmio privato, le famiglie sono indebitate. In altri paesi, non soltanto anglosassoni, il livello di risparmio privato non arriva mai a questo livello qui. Cioè noi abbiamo, è come se i nostri nonni, cosa avessero fatto? Hanno messo da parte tanti soldi per noi, perché li hanno messi da parte sono in banca, mica tutti, poi ci sono tanti problemi, però è come se la generazione che è uscita dalla guerra, per la quale, come dire, provo un rispetto profondo per come hanno ricostruito l'Italia tirandosi sulle maniche in silenzio senza troppi discorsi e con una straordinaria passione, quella generazione dei miei nonni, dei vostri padri, in alcuni casi anche dei bisnonni ormai, quella generazione lì ha messo da parte i soldi. Poi ha anche votato persone che hanno aumentato il debito pubblico. Cioè alla fine sono andati al ristorante e hanno lasciato da pagare a noi e noi paghiamo. Dal prossimo anno il debito pubblico italiano scende, è un mio paletto, io lo devo fare non perché me lo chiede la Merkel, ma perché me lo chiede mio figlio, perché per mio figlio non è giusto che lui debba pagare quello che hanno fatto i suoi genitori a livello pubblico, quindi il debito pubblico scenderà. Però 2.000 miliardi qui di debito pubblico, 3.500 di risparmio privato. Uno dice che negli anni della crisi questo risparmio privato si sarà un po' sottigliato. Uno penserà questi 3.500 miliardi probabilmente per la crisi uno li avrà tirati fuori e avrà speso qualcosa. No, dal governo Monti in poi le persone per paura hanno aumentato il risparmio privato. Il debito pubblico è sempre a 2.000 miliardi, miliardi, ma il risparmio privato è a 3.900 miliardi. Sapete che cosa vuol dire? Che ci sono 400 miliardi di euro che gli italiani hanno messo via, dicendo con questa paura, perché gli italiani sono formichine, molto più di quello che sembra, sono persone abituate a ragionare, a riflettere. Con questi chiari di luna tutti i giorni si apriva il giornale l'Italia sta fallendo, non va bene niente e questo e questo. Uno prende paura e mette via. Tornare a dare fiducia all'Italia significa dire che quei 400 miliardi o quelli che saranno mi accontenterei fossero un decimo, un ventesimo. Se potessimo dire, cari italiani, smettete di avere paura, torniamo alla fiducia perché abbiamo tutte le condizioni per potercelo fare, perché le nostre aziende sono forti nel mondo, perché ci guardano come un punto di riferimento, perché si emozionano di fronte alla nostra bellezza nel mondo. Noi siamo in grado di giocare questa partita. Ecco perché io continuo a lamentarmi dei gufi, perché dico che è un antieconomico essere gufo. Fa male all'Italia. Essere gufo fa male anche a te, digli di smettere, una roba del genere. In questo scenario il risparmio privato da 3.500 a 3.900, se noi diamo il messaggio smettete di comprare, chiudetevi in casa, non tirate fuori niente, fatelo. Se noi diamo questo messaggio stiamo picconando il Paese. Allora, io la vedo così. Per me è giusto che ciascuno abbia le proprie idee. Ed è doveroso difendere le idee di tutti. Ma bisogna anche pensare che ci sono delle idee che servono a vincere le elezioni e delle idee che servono a cambiare il Paese. Io posso anche perderle le prossime elezioni, ma non posso perdere questa occasione di cambiare l'Italia insieme a voi. Ecco perché quest'anno, insieme alle misure di cui vi ho detto, ho fatto una faccia triste, non le perdiamo le prossime elezioni. Non vi preoccupate, ho visto un po' di facce, ho visto un po' di persone dicendo che questo è rimbambito di mattina. Allora, lo decideranno gli italiani, vedremo. C'è ancora due anni e mezzo, è lunga. Ma non è importante. Importante è dire cosa faremo nei prossimi giorni. C'è un grande tema legato alla povertà. La povertà si combatte aumentando la ricchezza. Talvolta anche a sinistra qualcuno pensava che per combattere la povertà bisognasse attaccare i ricchi. Per combattere la povertà bisogna innanzitutto far crescere la ricchezza. Ma allo stesso tempo, ma allo stesso tempo c'è un'emergenza assoluta. C'è un milione, in questo paese ci sono un milione di bambini che stanno sotto il livello della povertà. Per la prima volta nella storia di 70 anni di Repubblica noi faremo un intervento, uno ad hoc, sui bambini che stanno sotto la soglia di povertà. Perché non è giusto che quei bambini soffrano uno Stato che non si interessa di loro. Chiederemo anche a tutte le realtà, alle aziende di dare una mano, ma alla prima misura è la lotta contro la povertà dei bambini. Un bambino che non può vivere in condizioni decenti è un tesoro buttato via, è una risorsa sprecata ed è una cosa profondamente ingiusta, che fa male al cuore. Perché uno può dire tutto. Io non devo dare a tutti, come dice qualcuno, il reddito di cittadinanza. Uno deve lavorare, io devo dare a tutti l'opportunità di lavorare, altro che il reddito di cittadinanza. Ma nel caso dei bambini, come è possibile che un bambino debba pagare per colpe non sue? Questo per me è inaccettabile. Due, siamo a Verona. Misure in più sulla cultura. L'art bonus qui in questa città, me lo ricordava anche il sindaco adesso, ma me lo ricorda spesso il ministro Franceschini, ha funzionato. Due realtà importanti delle banche bancarie hanno investito sul restauro dell'arena. L'art bonus è un meccanismo. Chi mette dei soldi per la cultura ha uno sconto fiscale. Come succede? In America è molto più forte. Metti soldi e detrai tutto. Ma se tu metti soldi nella cultura, non stai buttando via dei soldi in frizzi e lazzi, stai investendo in ciò che abbiamo di più profondo, la nostra identità. I terroristi lo hanno capito, attaccano i musei, attaccano le università, attaccano le scuole, attaccano i giornali, attaccano le sinagoghe, attaccano le chiese, attaccano la nostra identità. Noi abbiamo bisogno di difendere la nostra identità. E l'Italia non sarà mai una superpotenza diplomatica, nucleare, militare, ma è una grande superpotenza culturale che viene rispettata e apprezzata nel mondo. Dobbiamo esserne orgogliosi e degni. E infine, dobbiamo avere più attenzione. Ho visto che ci sono state polemiche sulla RAI, sul... Dicevi, ora si mette bocca... Ma invece è andato... È passato in secondo piano una piccola cosa sulla RAI. Noi dobbiamo avere più attenzione ai programmi educativi e culturali per i nostri bambini e per i nostri ragazzi. E allora su questo, lo ha detto molto bene il nuovo direttore generale, io sono molto d'accordo con lui e gli sono grato, via la pubblicità dalle tv dedicate ai bambini, ai bambini dell'età dell'infanzia, via questo atteggiamento e più qualità culturale nei prodotti che vanno a aiutare i nostri bambini, perché la RAI è la più grande azienda culturale e deve diventare la più grande azienda culturale europea. E deve essere fatta fuori dagli inciuci della politica. È un bene di tutti, poi domani arriva un altro e sarà lui a dover mantenere e difendere questa libertà della RAI. E infine, l'ultima cosa che davvero vi dico, ed è anche la canzone con cui vorrei che ci lasciassimo, noi dobbiamo riprendere a sognare. Io vi ho parlato di numeri, vi ho addormentato sui numeri, vi ho detto dell'Imu, della Tasi, non vi ho detto dell'Ires, ma c'è anche quella, gli ammortamenti, il welfare, l'Irapp agricola, gli 80 euro, che vi ho detto? La legge elettorale, la riforma costituzionale, tutte le cose, vi faccio l'elenco, un partore a finire domattina, noiosissimo. Noiosissimo. Perché questo Paese non lo salvano le riforme. Ora ve lo dico perché le riforme le stiamo facendo. Dopo che per anni ne hanno parlato, noi le riforme le stiamo facendo. Ma proprio adesso che le stiamo facendo, mi lasciate dire, con il sorriso sulle labbra, che questo Paese ha bisogno di tornare a fare sogni grandi, sogni più belli. Non può essere soltanto un insieme di problemi. Certo, ci sono i problemi, ne abbiamo detto, dall'immigrazione alla povertà. Vanno affrontati, vanno risolti, vanno cambiate le regole del gioco, certo. Ma l'Italia è stata fatta grande da chi ha avuto la forza e la capacità di fare i sogni grandi. Allora, io la vedo così. In questo anno e mezzo, in cui sono stato, in questo primo anno e mezzo a Palazzo Chigi, c'è una canzone che mi è tornata alla mente, la utilizzavo qualche anno fa durante la mia esperienza di sindaco, una canzone di Negrita che si chiama proprio così, Ho imparato a sognare. Io vorrei che tutti insieme fossimo capaci, indipendentemente dalle idee politiche, di ricordarci che siamo questa roba qui. Che le immagini che abbiamo visto all'inizio rappresentano tutti noi. Che l'eredità che abbiamo è grandiosa. E pensando ai nostri figli, o pensando magari ricordandovi i genitori e i nonni che non ci sono più, pensate a che cosa, oltre agli affetti familiari, vi unisce. L'idea di essere custodi di questa bellezza senza fine che è il nostro Paese. Se saremo in grado, nei prossimi mesi, di continuare a litigare in politica, va bene, giusto così, corretto così, è normale così. Ma tornare a parlare bene dell'Italia e di rimettersi tutti insieme a sognare, beh, io sono assolutamente certo che questa Italia non soltanto sarà meglio della Germania, ma sarà un punto di riferimento nel mondo. Perché nel mondo c'è fame di bellezza e quindi c'è fame d'Italia. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.